ben ritrovati come è stato un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi lasciare un bel like iscrivetevi da questa parte ragazzi non è infierire ragazzi io ho provato anche a vedere magari provare intravedere qualcosa di non ce l'ho fatta ma ragazzi lo dichiedo senza risposta per la cinquantesima volta che cosa ci hanno visto in emerson royal che cosa cavolo hanno visto in emerson royal aggiungo un cavolo perché la misura è colma si faceva sempre superare saltare in una maniera incredibile ma che perché non è un terzino lui non so neanche che giocatore è in cronaca ho detto ma vai a giocare a padel non ce la facevo più non ce la faccio più con emerson royal giocatore imbarazzante goffo si sgambetta da solo fa il tacco sulla linea con la palla che poi invece di dare al compagno è già direttamente fuori si fa saltare facilmente va di testa goffo poi si fa superare e lo butta e butta giù l'avversario perché altrimenti va a fare gol lo puntano lo saltano sempre 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 ogni mattina un giocatore sa che si affronterà sulla fascia destra del milan emerson royal lo salterà tranquillamente potrà essere tra i migliori in campo 15 milioni di euro forse anche qualche bonus per questo giocatore qui tutto il mondo sapeva tranne uno il signor moncada che ci dovrebbe spiegare invece di bearsi per reinders che cosa ci ha visto in emerson royal emerson shagura royal perché calcisticamente parlando è un giocatore che non può stare nel milan neanche neanche nel milan futuro ditemi che ne pensate che cosa ci hanno visto in emerson royal rispondetemi a questa domanda voi vi prego commentate lasciate un like iscrivetevi qui attivate la campanella qui sotto poi c'è la felpa di 125 del milan se volete la trovate nel link in descrizione indossata alla festa di milanello che ci sarà il 22 di dicembre al fil di seregno un abbraccio a tutti che cosa ci hanno visto in emerson royal spiegatemelo adesso a tutti